Con la legge di bilancio consegneremo al Paese una scuola nuova, più sicura, più moderna, il giusto ambiente in cui costruire il futuro delle nuove generazioni. Sono le parole che la Ministra Lucia Azzolina sta ripetendo da giorni, fornendo anche una cifra sicuramente significativa, 3,7 miliardi, di cui 2,2 destinati alla spesa corrente e 1,5 per gli investimenti. Qualche altra risorsa è stata aggiunta proprio nelle ultime ore con alcuni emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera. Il provvedimento sta iniziando proprio in queste ore il suo percorso in aula, dove però non si prevedono modifiche importanti. Il miliardo e mezzo di investimenti riguarda l'edilizia scolastica e sarà utilizzato per la realizzazione di nuove scuole, ma anche per la messa in sicurezza di quelle con maggiori carenze strutturali. In proposito, però, la Ministra fa osservare che su questa voce di spesa ci sono anche 2 miliardi sbloccati nel corso del 2020, ai quali vanno aggiunti 460 milioni di euro per l'edilizia leggera assegnati agli enti locali in fase di emergenza e 331 milioni del decreto rilancio attribuiti direttamente alle istituzioni scolastiche anche per l'adattamento degli spazi interni ed esterni. Fra i fondi di spesa corrente vanno segnalati 60 milioni aggiuntivi per le attività connesse alla realizzazione del sistema educativo integrato per la fascia 0-6 anni e altri 40 milioni di euro per la digitalizzazione delle scuole, senza poi dimenticare i fondi per confermare le equip formative di docenti che si occupano della attuazione del piano nazionale della scuola digitale. Anche se per la verità la Ministra ha in mente un obiettivo molto più ambizioso, mettere a disposizione delle scuole dal prossimo anno scolastico una piattaforma digitale unica contenente tutti i servizi e le funzionalità utili per le scuole, compresi gli strumenti per la didattica a distanza. In commissione bilancio alla Camera è passato poi un altro emendamento per riconoscere un finanziamento di 70 milioni di euro alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Ma la misura complessivamente più importante dell'intera legge è quella che riguarda un piano pluriennale per l'assunzione di 25 mila docenti di sostegno in organico di diritto, piano che sarà accompagnato dallo stanziamento di appositi fondi per la formazione del personale docente sulle tematiche dell'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità e per l'acquisto di ausili didattici. Piano che però non trova molto d'accordo le organizzazioni sindacali, alle quali non piace molto l'idea che la formazione dei docenti sia obbligatoria e senza compensi aggiuntivi per il personale coinvolto. Sempre a proposito di personale, per la scuola dell'infanzia sono previsti mille docenti in più per l'organico di potenziamento, mentre vengono confermati i mille assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo. Per il personale alta invece si parla del passaggio da tempo definito a tempo pieno per 4.500 collaboratori scolastici ex LSU. Nonostante le proteste sindacali culminate nello sciopero del pubblico impiego del 9 dicembre, è rimasto però inalterato lo stanziamento per il rinnovo dei contratti degli statali, docenti e ata compresi. Si tratta di 400 milioni che, seppure messi insieme a quelli stanziati con le due precedenti leggi di bilancio, serviranno a malapena a garantire la conferma del cosiddetto elemento perequativo per gli stipendi più bassi e della indennità di vacanza contrattuale per tutti. In settimana il disegno di legge dovrebbe essere approvato dalla Camera per passare poi subito dopo al Senato che dovrà chiudere i lavori improrogabilmente entro la metà della prossima settimana. E con questo video la nostra rubrica per questo anno si ferma qui, quindi noi cogliamo l'occasione di augurare a tutti voi delle buone feste e soprattutto un 2021 che tutti quanti ci auguriamo migliore di quello che si sta per chiudere e ovviamente vi diamo appuntamento al prossimo video, alla prossima puntata agli inizi di gennaio 2021. Come al solito continuate a seguirci su questo canale e anche sulla nostra testata online www.tecnicadelascuola.it, scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.